Il problema è che i reati tu li hai fatti te e non li ho fatti io, capito? I reati tu li hai fatti te insieme alla tua cerchia di amici. Quindi, tu pensi di venirmi a spaventare con due poliziotti e due magistrati che firmano foglie e foglietti? Ma la verità deve venire fuori, i magistrati ora è un po' san più fa finta di nulla, tu ti sei tirato con una martellata sui coglioni da solo perché ora non sono più chiacchiere e ora sono fatti. Ma tu pensi che i cinque io vengo a mani vuote? Povero coglionazzo! Tu vedi che gli stonfo lì a quelli della Dicos e poi voglio vedere dopo le facce che fanno, eh? Che va a dire? No, si indaga, non si indaga, no, si indaga su tutto ora, si indaga su tutto! Perché non conviene più a nessuno fare il furbo, parare il culo, qui si va fino a un fondo, perché i reati li hai fatti te e con i tuoi amici e non io. E per quanto riguarda il discorso della messa incinta, la messa incinta e il giro di escort, sta tranquillo che anche lì non mi sono inventato nulla, perché la gente che mi telefonava non sapeva di essere registrata. E quelle telefonate, sta tranquillo, l'hanno sentita anche tante altre persone che possono venire a testimoniare o magari sono da altre parti. Che ne sai te? Credi di essere tanto furbo e tutto ti deve essere concesso? Eh? Te lo faccio vedere io se tutto è concesso!